Le biblioteche riacquistano centralità nei piccoli comuni grazie a giovani e cittadini. Nelle ultime settimane si è spesso parlato del recupero di biblioteche grazie all'impegno di giovani e cittadini che hanno deciso di dedicare il loro tempo e la loro attività per il recupero di volumi storici e per realizzare un luogo culturale consentendo la riattivazione del servizio bibliotecario. Tre biblioteche aperte in questo mese di agosto, la prima a Padula dove la biblioteca romano è stata restituita a Nuova Vita grazie ai giovani del forum locale, a Piaggine dove il 10 agosto è stata inaugurata una biblioteca all'interno del rifugio Cervati e infine il 19 agosto gli ospiti del centro di accoglienza Casa dei Popoli di San Rufo hanno riaperto la locale biblioteca comunale. Un mese di agosto di cultura quindi per le aree interne. I primi a dare il via a questo impegno a favore dei libri i ragazzi del forum dei giovani di Padula guidati da Annalisa Lagalla che attraverso il progetto Casa della Cultura hanno restituito alla fruibilità della comunità la storica biblioteca comunale Raffaele Romano. Grazie al supporto dell'amministrazione comunale che ha messo a disposizione la sede della Certosa di San Lorenzo i giovani del forum lavorando all'acremente sono riusciti a recuperare e catalogare numerosi volumi già parte della storica biblioteca aggiungendone altri e puntando con progetti correlati ad ampliare ulteriormente la dotazione libraia. I ragazzi con le loro sole forze si sono inoltre occupati di creare un luogo tranquillo e adatto allo studio e per saziare la propria fame di cultura. Un esempio di come i giovani hanno bisogno soprattutto di chi crede in loro e nella loro voglia di mettersi al servizio del territorio. Altra iniziativa si è sviluppata sulla cima del Monte Cervati dove lo scorso 10 agosto all'interno del Rifugio Cervati è stata inaugurata la biblioteca Sabatino Landi nell'ambito dell'evento Eleviamo la Cultura creando uno spazio dove poter leggere anche sulla vetta più alta della campagna. L'ultima biblioteca riaperta alla fruibilità delle comunità locali è venuta a San Rufo dove alcuni giovani richiedenti asilo e ospiti del centro d'accoglienza a Casa dei Popoli prima hanno fatto richiesta di poter usufruire della biblioteca comunale chiusa da circa un anno e successivamente hanno manifestato la volontà di poterla gestire prendendosi cura del luogo e manifestando la disponibilità a tenerla aperta. Così dallo scorso 19 agosto gli ospiti della Casa dei Popoli hanno restituito il luogo culturale ai cittadini sanrufesi. Grazie per la visione!